Nell'occasione del penalty ha segnato al new read ponente, ci motiva la scelta di sanzionare Carpitella del Gaeta con il solo cartellino giallo? In quel momento ero dietro l'azione, abbastanza vicino, diciamo che mi è sembrato mentre l'attaccante si avvicinava alla porta che tendesse a decentrarsi. Vista questa condizione, l'attaccante mi è sembrato direzionato verso l'esterno dell'area di rigore, ho optato per una semplice munizione attribuendo il calcio di rigore. Sappiamo che l'è stato attribuito il soprannome Ligio, da dove nasce? Ligio deriva dal fatto che cerco sempre, per quello che mi è possibile, di attenermi al regolamento, analizzare le situazioni in modo piuttosto obiettivo. È vero che il venerdì sera, dopo le gare consuetudine per l'eterno arbitrale ICS, incontrarsi e chiacchierare di calcio sorseggiando uno o più birre? È un modo per stare insieme, per condividere insieme la serata, fare due chiacchiere sul post partita, su quello che è accaduto in campo, ma anche fuori dal campo per instaurare dei rapporti di amicizia. Poi diciamo che lì chiaramente l'argomento principale è raccontarsi un po' quello che è avvenuto nelle partite arbitrate il venerdì sera, quindi magari questa serata parleremo di questo rigore, della mia decisione e quant'altro.